Quanto è importante per te partecipare a questa giornata? Oggi si ricorda lo sterminio di quasi 6 milioni di persone, la cui etnia non era soltanto ebraica, ma il genocidio ha coinvolto moltissime minoranze e oggi è molto importante perché anche in questi ultimi anni stiamo vivendo degli eventi simili, come l'esclusione degli immigrati, di persone omosessuali e così via. Quindi oggi è molto importante per noi studenti ricordare questi eventi per non ripeterli e non cadere negli errori che sono stati dei nostri nonni. Cos'è la Shoah? Allora la Shoah, come penso tutti sappiamo, purtroppo è il genocidio che è stato fatto riguardo al popolo ebreo e dobbiamo comunque sempre ricordare ciò che è stato fatto in modo da imparare dalla storia, perché anche credendo di essere migliori, purtroppo abbiamo visto anche con fatti recenti che non lo siamo e giornate come queste dovrebbero servire a ricordarci l'importanza del bene comune e comunque del rispetto per le altre popolazioni. Come vedi il coinvolgimento dei giovani di oggi? Gli estri studenti sono coinvolti soprattutto a livello scolastico ovviamente che è la nostra realtà. Noi viviamo dentro la scuola fino a che non lasciamo le superiori e sin da piccoli ci abituano comunque a vedere filmati oppure a farci capire appunto cosa hanno passato queste persone. Hanno anche intrapreso molti progetti, infatti io faccio parte del progetto regionale sulla Shoah e sulle foibe e devo dire che il viaggio che faremo a marzo potrebbe essere una bellissima opportunità per vedere e toccare con mano ciò che è successo in quei posti. Quale istituto frequenti? Il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti. Quanto è importante per te e per i tuoi compagni la giornata di oggi? Prima che studenti come cittadini è importante questa giornata per cercare di non ripetere quello che è successo, specie nel contesto internazionale di crisi che stiamo vivendo in questi mesi e altresi importante è partire dalla solidarietà nei confronti dei nostri compagni che sono più esclusi per poi passare nell'età adulta a iniziative più importanti. Come vedono i giovani di oggi quello che è accaduto secondo te? Negli ultimi anni sicuramente stiamo assistendo nonostante i numerosi progetti che ci vengono proposti a una sorta di dimenticanza nei confronti di questo evento e c'è sicuramente un male. Quindi quello che speriamo noi nei prossimi anni è che questo trend si inverta e che invece di vivere questo fatto come qualcosa accaduto 70 anni fa come qualcosa di più vicino a noi e che in potenza è molto pericoloso che possa ricapitare di nuovo.